ciao a tutti benvenuti o bentornati su my beauty fair il video di oggi sarà un video lunghissimo potenzialmente il più lungo che io abbia mai filmato perché perché sono contenuti in questo cessione immenso veramente gigante tutti i prodotti beauty makeup skin care corpo capelli che più ne ha più ne metta che ho terminato negli ultimi mesi e che sono qui per mostrarvi per raccontarvi so che alcuni di voi amano i video lunghi altri di voi preferiscono brevi e concisi per quest'ultima categoria purtroppo qui sul mio canale non c'è molto da vedere ho pensato che questo video potesse cascare a fagiolo sia perché siamo pieno delle vacanze quindi magari qualcuno di voi ha più tempo libero ma anche perché avendo dimezzato la programmazione per il mese di agosto ho pensato insomma che pubblicare un video molto lungo fosse una mossa vincente perché eventualmente potreste splittarlo anche in più visioni cominciamo perché c'è veramente tanto di cui parlare o mal di gola già al pensiero prima di cominciare vi ricordo due cose non dimenticate di iscrivervi al mio canale cliccando qui sotto nell'info box attivando la campanella per non perdere nessuno dei prossimi video e ricordate che vi aspetto tutti a braccia aperte anche sul mio profilo instagram giovanna lovison prima di cominciare vi ricordo che trovate qui sotto nell'info box la lista completa e tutti i link sia dei prodotti che menzioneremo nel video di oggi ci metterò qualcosa tipo due ore a fare questa lista e sicuramente dovrò splittarla metà tra l'info box e un commento che metterò in evidenza perché non ci sarà abbastanza spazio e trovate anche nell'info box tutti i dettagli come sempre relativi ai prodotti di make up che indosso quando filmo rossetto ombretti smalto tutto quanto trovate tutto sempre nell'info box quindi non dimenticate mai di dare un'occhiata allora non seguo nessun ordine particolare voglio solo dirvi qui non c'è nessun trucco nessun inganno non c'è un doppio fondo il cesto è completamente pieno dal fondo al alla superficie ci sono un sacco di prodotti comprati da me ricevuti sapete che per me non fa nessuna differenza se c'è da bocciare bocciamo se c'è da promuovere promuoviamo però il possibile per tenere il make up alla fine in modo tale da concentrare tutti i prodotti in un momento unico del video perché so che c'è a chi interessa principalmente quello comincio ho qui due tonici di pixi il famosissimo glow tonic e il retinol tonic il glow tonic è il tonico esfoliante illuminante famosissimo il prodotto più famoso del brand contiene 5 per cento di acido glicolico che sapete essere un esfoliante chimico video dedicato all'argomento qui sopra devo dire che l'ho utilizzato spesso nella mia vita è un prodotto che mi piace lo consiglio come primo step nel mondo delle esfoliazioni chimica ha visto che la percentuale è piuttosto bassa un prodotto delicato consiglio sempre di usarlo solo alla sera invece che mattina e sera come consigliano loro personalmente ma io sono una pelle che è molto fotosensibile quindi preferisco evitare evitare e niente mi piace trovo che sia un prodotto molto carino che fa il suo dovere il retinol tonic invece a base di retinolo e estratto di fiore di ginsomino non mi ha fatto impazzire semplicemente perché non ho notato niente di particolare per la mia pelle averlo utilizzato meno non ha cambiato molto non sentivo proprio la differenza più latte detergente diego dalla palma latte detergente detossinante questo è un prodotto che mi è piaciuto proprio un classico latte detergente non particolarmente denso non particolarmente fluido non troppo grasso non troppo blando fa il suo lavoro un bron profumo a un bron a un buon profumo fresco e delicato e si mi sono trovata bene è un prodotto che ho utilizzato terminato volentieri il flacone è immenso non finisce mai vi assicuro che non finisce mai però insomma ce l'ho fatta e il prodotto mi è piaciuto molto mario badescu rose body soap questo è un detergente per il corpo un bagno schiuma un bagno doccia che ho ricevuto piuttosto di recente da sephora non so se ve lo ricordate ma l'avevamo visto in un in uno dei miei ultimi video all mi è piaciuto molto nonostante che non sia una fan della rosa aveva un profumo comunque molto delicato molto fresco non troppo polveroso troppo intenso che fa un po quell'effetto vecchiarda secondo me e mi è piaciuto moltissimo mi sono trovata molto bene in più è anche un prodotto che ho trovato particolarmente delicato a una formula in gel fa una schiumetta molto leggera molto delicata e niente mi è piaciuto molto i gk jet lag invisible dry shampoo questo è dovrebbe essere uno shampoo secco invisibile nella scala di intensità degli shampoo secco di jet lag di i gk dovrebbe essere il più blando ce ne sono tre questo un intermedio e uno extra intenso non mi è piaciuto proprio ma neanche per sbaglio neanche per un secondo mi è piaciuto per sbaglio perché l'ho trovato intanzitutto non assolutamente invisibile anzi bianco polveroso residui difficilissimi da togliere per me che capelli neri un incubo e poi anche dopo l'affonata lo spazzolata sentivo i miei capelli tutti secchi scricchiolanti polverosi una sensazione orribile veramente orribile e proprio l'ho trovato tremendo io non sono una fan dello shampoo secco lo uso molto raramente tant'è che per finire questa boccetta ci ho messo tipo due anni perché il mio motto è se sei in dubbio tra lavare o meno i capelli vuol dire che sono sporchi quindi lavali e anche la sensazione di capello così secco così impolverato mi ha dato veramente molto molto fastidio e non vedevo l'ora di togliere tutto quindi per me bocciatissimo kills midnight recovery concentrate questo è un prodotto di skin care tra i miei preferiti sulla faccia della terra lo uso da secoli ne ho sempre una portata di mano si tratta di un olio molto leggero molto sottile non è un olio grasso unto corposo è veramente impalpabile quasi come se fosse un siero oleoso più che un olio vero e proprio che mi piace utilizzare soprattutto d'inverno alla fine della mia skin care routine come ultimo step ha un profumo erboso di lavanda molto buono molto rilassante soprattutto alla sera e lascia la pelle veramente liscia elastica morbida la mattina dopo il viso è morbidissimo quindi non posso che consigliarlo mi piace un sacco contiene oli essenziali quindi attenzione se avete la pelle sensibile ho terminato l'ennesimo flacone della crema corpo relief dermorelizema crema ultra idratante forse ce n'è anche altri qua dentro non lo so questa è una crema corpo molto densa ricca nutriente ma che allo stesso tempo si assorbe in fretta anche in estate non è la cosa più leggera che potete applicare però è per per essere così idratante così corposa vi assicuro che vi stupirà la velocità con cui si assorbe mi piace tantissimo l'ho utilizzata per l'ultimo anno e mezzo quasi non stop adesso ho iniziato a utilizzare anche qualche altro prodotto idratante per il corpo ma per me è fantastica mi è stata consigliata dal dermatologo va benissimo anche per le pelli sensibili molto delicate e reattive e niente ne ho terminate 50 mi piace un casino a proposito di pelli delicate sensibili ho terminato alcuni bagnoschiuma proprio specifici per questo tipo di pelle bioderma atoderm will the douche è un olio doccia che adoro ne avete sentito parlare mille volte l'ho già ricomprato ne ho fatti fuori anche qui tantissimi mi piace un sacco è un olio però non è grasso unto comunque si emulsiona bene vi dava una bella sensazione di pulito ma non secca la pelle non la lascia secca che tira o comunque che dà un effetto di mancanza di comfort come alternativa low cost io mi sono trovata bene con il neutro roberts derma 0 ipo allergenico 0 per cento sapone coloranti completamente trasparente la formula buono il profumo mi sono trovata bene non ho avuto nessun tipo di problema anche in una fase in cui la mia pelle era piuttosto reattiva quindi mi sono trovata molto bene con entrambi ho trovato anche qui il rila still xero l'acto olio detergente protettivo anti irritazioni è l'alternativa di rila still al prodotto di bioderma non mi ha fatto impazzire perché nonostante anche lui non avesse lasciato la mia pelle insomma sensibilizzata oppure con nessun tipo di fastidio era piuttosto corposo ma mi dava l'idea di non riuscirsi a emulsionare bene sulla superficie della pelle e non mi dava mai una sensazione di pulizia ecco mi sembrava di essermi spalmata l'acqua sotto la doccia ma non un prodotto per la detersione quindi non lo ricomprerò una maschera scusate il rumore ma son qua che eravano per capelli favolosa che ho utilizzato fino all'ultima goccia e ne ho un'altra per fortuna è di air burst e della long and healthy air mask è una maschera buonissimo il profumo di cocco un profumo tropicale molto buono che mi piace sempre ma soprattutto in questa stagione è una maschera che mi piace fare sia dopo lo shampoo ma soprattutto prima la tengo su come se fosse un impacco e lascia i miei capelli veramente lucenti e morbidissimi dopo dopo la detersione contiene un sacco di oli argana boccado cocco girasole black out avena nero veramente molto molto idratante per i capelli e mi piace tantissimo non ne serve tanta quindi non avete bisogno di utilizzare vagonate di prodotto come capita con altre maschere che magari hanno una texture un po più corposa e non si riescono a stendere bene lungo la lunghezza dei capelli e niente mi piace un sacco e ne ho già un altro in uso la vera basis sensitive è scritto in tedesco della lingua qui sotto ma qua è scritta in tedesco hanno aspetta che dietro c'è scritto crema idratante nutriente boh aloe vera bio burro di carità e bio allora come sempre qua sul mio canale del bio non ce ne frega niente però al di là di questo non mi sono trovata benissimo nel senso era una cremina con un profumo neanche particolarmente gradevole io trovo che i prodotti di la vera spesso abbiano un odore un po acidulo un po pungente che non mi fa anche impazzire l'ho trovata grassa cioè abbastanza sottile come texture però grassa sulla pelle e neanche particolarmente nutriente quindi secondo me il gioco non vale la candela peter thomas rot pumpkin enzyme mask se bazzicate da queste parti da un bel po di tempo saprete che questa è una delle maschere che ho utilizzato per più tempo nella mia vita al momento non l'ho ricomprata non penso che lo farò devo dire la verità perché trovo che negli anni siano uscite maschere esfolianti che su di me funzionano meglio di questa però ciò non toglie che sia un prodotto favoloso questa è una delle primissime maschere esfolianti a base di enzimi quindi che rientrano nella categoria dell'esfoliante chimico ma che allo stesso tempo svolgono anche un'azione esfoliante meccanica perché contiene all'interno microscopiche particelle non so penso siano piccolissimi frammenti di noccioli di zucca di semi di zucca cosa velocissima 3 4 5 minuti mi pare che loro suggeriscono da 3 a 7 minuti esatto ha un fortissimo profumo di zucca e cannella io odio la cannella per me la cannella e satana in persona anzi satana mi spaventa meno della cannella quindi utilizzavo sempre un olio essenziale sotto le narici per togliere per non sentire la puzza però se adorate pumpkin spice questo tipo di fragranze diventerete matte lascia la pelle bella liscia morbida se volete massaggiarla per toglierla combinate appunto esfoliazione chimica e meccanica altrimenti la sciacquate con abbondante acqua in modo delicato mi è sempre piaciuta moltissimo c'è altro che preferisco al momento come dicevo però rimane un'ottima maschera esfolianti ecco non la consiglierei a chi ha una pelle particolarmente sensibile o delicata perché a volte mi capitava di sentire un po di pizzicore un po di rossore però se avete la pelle insomma che non ha particolari problemi provatela acqua micellare bifase con olio d'argan di garnier anche qui ne ho finite 17 acqua micellare come suggerisce il nome bifasica quindi va scecherata prima dell'applicazione la fase oleosa si mixa con l'acqua micellare e rende molto più facile la rimozione del make up io la uso come principalmente come make up remover per gli occhi e avendo appunto questa base oleosa fa sì che il dischetto di cotone non faccia attrito sulla pelle ma scorra via più facilmente oltre che il trucco si sciolga prima quindi per me è vincente è l'unica acqua micellare di garnier che mi piace tra quelle che abbia provato praticamente tutte il clearly corrective clarity activating toner questo è un tonico che ora non esiste più con questo packaging ma è stato riformulato si chiama si chiama water comunque vi linko ora la nuova versione la linea clearly corrective di kills è una delle pochissime se non l'unica linea di cosmetici che io abbia trovato funzionare sulla mia pelle ovviamente quando parlo di schiarire macchie non parlo del melasma perché il mio melasma è talmente bastardo radicato nella mia pelle che i cosmetici non fanno niente cioè non servono neanche a mitigare un po la situazione parlo di macchie che possono essere macchiette post infiammatorie dopo un'imperfezione o cose del genere ma non è un prodotto in grado di contrastare il melasma ovviamente sono trovata bene l'ho utilizzato sia in combinata con il siero ed è lì che ho visto i risultati ma perché il siero è veramente potente quindi assieme a lui funzionava ancora meglio ma da solo con altri prodotti di skin care non ho trovato grandissimi giovamenti ecco però date un'occhiata perché la linea non è niente male nel pulisce remover rinforzante rimel carino un buon un buon leva smalto questo all'acetone quindi non è tra i miei preferiti per face quelli senza acetone a base oleosa però non riesco più a trovare il mio dorato leva smalto manila che quello sì che è oleoso e quindi compro questo oppure quello di essi diciamo quello che trovo in offerta al momento ho terminato shampoo e balsamo di virtù il recovery shampoo shampoo ristrutturante e il recovery conditioner quindi balsamo ristrutturante mi sono piaciuti buon profumo texture di entrambi bella ricca ma non pesante si sciacquano facilmente però idratano bene i capelli infatti li ho preferiti durante la stagione fredda quando i miei capelli a volte sono più secchi dovute dovuto alle basse temperature mi sono piaciuti non li ho trovati nulla di trascendentale da dirvi oddio correte a comprarli però se vi va di provare il brand se siete incuriosite lo trovate da sephora a me insomma sono tutto sommato sono piaciuti da un 6 mi spiace che manchi silicone che per me l'ingrediente chiave per la cura dei capelli io amo i siliconi mi ci farei il bagno se potessi però insomma funzionano comunque anche senza di lui questo è un prodotto di sephora che non esiste neanche più ed è il coconut dry conditioner quindi il concetto è lo stesso dello shampoo secco solo che è un balsamo secco ed è un prodotto da vaporizzare sulle lunghezze avevo provato cent'anni fa un prodotto simile del brand batiste che mi era piaciuto da matti un conditioner spray ma non avevo mai più trovato qualcosa di simile e quando era uscita questa linea qualche anno fare impazzita in realtà non mi è piaciuto mai per niente perché trovo che sia ho sempre trovato molto unto quindi davo la sensazione di unto sui capelli sulle lunghezze dava l'effetto di capelli lucidi per carità ma anche di capelli unti che quasi finivano per unirsi in cordicelle avete capito quella cosa orrenda e quindi non mi è mai piaciuto per niente ce n'è ancora metà e basta non è che l'ho terminato in realtà però lo butto perché non lo supporto dr jart serami din cream mist questo è un prodotto in spray da vaporizzare sul viso nonostante si chiami cream mist non è una crema non sostituisce una crema ma è una miste per il viso un tonico in spray se volete molto ricco e idratante mi è piaciuto tantissimo ha una formula un pochettino lattiginosa non ha la formula del dell'acqua insomma un po più denso mi piace tantissimo l'ho usato molto volentieri soprattutto d'inverno perché mi aiutava quando la mia pelle era secca e tirava mancava di comfort a dare uno strato in più di idratazione quindi se avete la pelle secca molto secca provatelo quest'inverno perché è una bomba mi sono trovata molto bene con il kit per lo sbiancamento dei denti di spotlight oral care si chiama white tito whitening system ed è una combo composta da dentifricio sbiancante e striscette sbiancanti sono 14 striscette e un tubo di dentifricio alle striscette andrebbero usate tutti i giorni per un periodo di due settimane e in combinata si usa anche il dentifricio e poi si continua insomma l'utilizzo del dentifricio finché non non termina sono 14 striscette comprensive di una superiore e una inferiore quindi avete 14 applicazioni incluso sopra e sotto molto delicate non ho mai avuto problemi non sono così intense come quelle crest che avevo comprato in passato negli stati uniti però hanno fatto il loro lavoro ci mettono un po di più ma sono anche molto più delicate non ho mai avuto problemi di sensibilità dei denti finché le usavo e trovo anche che il rapporto qualità prezzo di questo kit di questo brand in generale sia ottimo due creme solari di kiehl's queste sono due versioni della ultralight delle uv defense abbiamo la versione aqua gel etichetta azzurra e la versione classica sunscreen etichetta gialla fantastiche protezioni per il corpo fino a qualche anno fa nel senso che il culto della protezione solare si è notevolmente ampliato come fenomeno negli ultimi anni fino a qualche anno fa se ne trovavano poche di protezioni solari di prodotti di skin care per la protezione solare senza che ci limitassimo insomma a guardare il reparto solari estivo e queste erano tra le poche che a me piacevano perché erano sottili meno corpose meno grasse non andavano non lasciavano quel residuo bianco la versione acqua gel è quella un po più leggera che ha usato con la stagione calda e questa qui invece quella un po più ricca per l'inverno in realtà ora le trovo un po densette io queste le ho terminate però insomma le ho usate le ho ricomprate più volte in passato ora le trovo un po densette secondo me sono superate c'è di meglio in commercio leggi le ultime protezioni garnier super ovvi che secondo me sono l'oreal esfoliante nutriente sugar scrub questo è uno scrub per il viso del brand l'oreal buono il profumo un po di cacao un po di burro un po di cacao molto molto piacevole l'odore è come se fosse una sorta di pasta bella densa con dei frammenti di zucchero devo dire che non sono una fan degli esfolianti meccanici per il viso questo l'avevo preso un bel po di tempo fa fa il suo lavoro però lo utilizzo ci ho messo tanto a finirlo perché lo utilizzavo in aree specifiche non su tutto il viso ma dove magari volevo un effetto esfoliante un po più strong ecco e niente carino non non degno di nota ecco mettiamola così benissimo invece di nota ma proprio degnissimo di scimmine all 89 booster siero idratante a base di acqua termale di visci e acido ialuronico è un bicchiere d'acqua per la vostra pelle ne ho parlato milioni di volte in quest'ultimo anno lo adoro veramente lo adoro alla follia è leggero sottile va bene per tutti i tipi di pelle non fatevi ingannare dal idratante va bene per tutti è leggerissimo si assorbe al volo scompare sulla pelle va bene anche se avete la pelle grassa se avete la pelle impura mi piace da matti e per me è un prodotto ma steve assoluto ho terminato una scatola di maschere make my day di foreo da utilizzare in combinata con il foreo ufo mi sono piaciute tantissimo questi sono quelli idratanti e anti inquinamento non so dirvi per quanto riguardi la funzione anti inquinamento però a livello di idratazione devo dirvi che il siero di cui sono imbevute molto leggero sottile fresco idratante ma non grasso si assorbe molto bene lascia la pelle bella elastica tonica rimpolpata e mi piacciono veramente tantissimo quanti toni ci ho terminato nell'ultimo periodo veramente un casino clinique anti blemish solution clarifying lotion mi farà strano magari sentirmi menzionare questo prodotto perché io di solito non uso prodotti anti impurità anti imperfezioni o per le pelli grasse questo invece è un prodotto che ho usato per anni molto spesso soprattutto quando avevo la pelle più congestionati in questa zona ma che anche dopo aver risolto insomma quel tipo di problema se così possiamo dire è rimasto sempre nella mia routine lo utilizzavo quando ne avevo bisogno quando sentivo la mia pelle più congestionata più impura oppure quando vedevo qualche imperfezione che spuntava è un buon tonico secondo me secca molto la pelle quindi attenzione a utilizzarlo nel modo giusto abbinatelo a prodotti poi che restituiscano l'idratazione però fa bene il suo lavoro secondo me si prende bene cura delle imperfezioni ho qui un prodotto per capelli che è il solo si soldi scrub cleanser di da vince uno scrub salino per il cuoio capelluto allora devo dire che mi piace la capacità di questo prodotto di esfoliare la pelle e anche mi piace come si emulsiona con l'acqua e da un primo step di detersione però il sale sul cuoio capelluto secca il sale secca sulla pelle perché assorbe l'acqua dei tessuti per osmosi no quindi trovo che alla lunga possa causare secchezza del cuoio capelluto e se avete già magari questo problema di partenza lo accentua molto quindi lo consiglio a chi ha un cuoio capelluto grasso oppure se non avete un cuoio capelluto grasso va bene come prodotto da usare una volta ogni tanto cioè magari una volta ogni due settimane ecco ma non su base quotidiana almeno secondo me questo prodotto fuori produzione si chiama ulle ericsson power pill ed è un sistema in tre fasi per l'esfoliazione chimica del viso mi è piaciuto molto l'ho usato spesso in passato però fuori produzione già da un annetto quindi vai adios non mi dilungo oltre bagnoschiuma melograno leo bio questo è un bagnoschiuma che avevo ricevuto dal brand perché avevo partecipato un paio d'anni fa alla fase di test dei prodotti prima di del lancio sul mercato avevo provato alcuni prodotti non tutti in fase di test questo prodotto non mi è piaciuto molto perché non mi dava la sensazione di pulizia e non mi piaceva neanche il profumo proprio del punto di vista sensoriale quindi non l'ho utilizzato volentieri e l'ho terminato devo dire la verità per loro i pennelli ma volosissima detox r per mask di john frida sapete che adoro john frida il mio brand per capelli preferito in assoluto rapporto qualità prezzo ottimo la linea detox r per è uscita nell'ultimo annetto mi piace tantissimo la maschera è il prodotto che forse mi è piaciuto di più cosa annuso che vuota un po si sente però profumo molto buono veramente buonissimo la maschera era bella densa corposa mi dava mi lasciava un effetto seta sui capelli luminosissimo una cosa veramente stupenda stupenda e niente mi è piaciuta da matti non l'ho comprata non l'ho ricomprata perché ho un carretto di maschere per capelli e sciampi e balsami da da utilizzare e quindi per il momento non sto comprando niente però è un prodotto veramente super 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 good as gone clarifying il polish remover se avete lo smalto scuro o a lunga tenuta se fate tre passate di smalto mettete anche il top coat vi serve qualcosa che sgrassi molto bene pulisca bene lunghi e sciolgo ogni residuo questo è il leva smalto perfetto io lo compro quando è in offerta perché a prezzo pieno costa 10 euro non mi sembra la cifra da spendere per un per un leva smalto però in offerta lo compro i hope rose natural nourishing shower gel questo brand il brand i hope è un brand del quale ho provato diversi prodotti tre bagno schiuma due linee di shampoo balsamo non mi piace niente ma non non mi piace niente non mi piace proprio niente cioè lo shampoo non lava il balsamo non idrata non condiziona il detergente non dà la sensazione di lavare di pulito non ci riuscivo a pulire neanche i pennelli ciò pulito le spazzole utilizzavo per pulire le spazzole quindi io non amo sprecare i prodotti o comunque lasciarli lì anche se non mi piacciono cerco sempre degli usi alternativi ma in questo caso è stata veramente veramente dura shampoo e balsamo li ho provati a passare anche le mie sorelle ma me l'hanno restituito tutti e due mi hanno detto ma che sta roba e non è piaciuto proprio a nessuno per friday sissimi serum siero base di vitamina c siero illuminante antiossidante di summer fridays che bello questo prodotto mi è piaciuto tantissimo l'ho ricomprato una seconda volta una formula un pochettino comunque leggero sulla pelle ma un pochettino più corposetto idrata molto bene la pelle lascia quell'effetto di pelle liscia di pelle luminosa che mi piace tantissimo e niente per me summer fridays è veramente un brand super non sono mai stata delusa da niente un altro siero bomba bomba è questo qui vino pure serum infusion anti imperfezioni di codali che qui non sono solita usare prodotti per pelle miste grassi impure o anti imperfezioni ma questo prodotto quando la mia pelle congestionata è una bomba è fresco leggero ha un profumo rinfrescante mentolato incredibile si fonde con la pelle in due secondi scompare da un effetto peso piuma incredibile se avete la pelle grassa o mista vi prego provatelo perché è pazzesco è veramente pazzesco e in più trovo anche che nel mio caso mi abbia aiutato a tenere a bada quelle poche imperfezioni che mi capitano ogni tanto quindi non posso dirvi come funziona con imperfezioni più severe però su di me ha funzionato molto bene rev de miel nux balsamo labbra il più idratante restitutivo levigante elasticizzante rimpolpante che ci sia sulla faccia della terra per me è un master assoluto ho qui poi un prodotto per capelli questo è il live in conditioner di champora champora un brand che ha usato per un mese e mezzo tutta la linea di prodotti champo balsamo e poi live in conditioner ci ho messo di più a finire questo perché ovviamente se ne usa meno insomma è un bottiglione grande dura di più rispetto a champo e balsamo devo dire che mi sono trovata bene quei prodotti finché li usavo ma dopo che li ho terminati e sono tornato al mio solito shampoo che è john frida ho sentito la differenza ho sentito veramente tanto la differenza e quindi non mi sento ne avevo parlato bene perché effettivamente mi ero trovata bene però sentendo la differenza non è non sono più così convinta come lo ero un annetto fa quindi personalmente devo anche dire però che champora è un brand che produce prodotti per capelli su misura rispondete un questionario descrivete i vostri capelli quali sono i vostri obiettivi quello che cercate qual è il vostro stile di vita e loro vi compongono una formula su misura quindi questa è quella che è stata fatta su misura per me non è detto che qualcuno possa trovarsi peggio o meglio perché voglio dire ogni come un abito sartoriale no ha fatto su misura per ciascuno quindi questa è la mia esperienza se ci fossero qui dentro i siliconi probabilmente sarei più contenta però è uno di cui brand che vai a capire perché non li vuole usare butt and body works white citrus 24 ore moisture ultra she body cream questa è una crema corpo a base di burro di carité con questo profumo di limone di limone molto fresco buonissimo il profumo io non sono una grandissima fan di butt and body works perché un po come da lash quando entro sento quegli odori come se io venissi presa a schiaffi mi viene il mal di testa sto male per quattro giorni profumi sono molto forti intensi e non è proprio il mio però questa mi era piaciuta per la profumazione agrumata fresca però una crema bella corposa e densa un po grassettina quindi ho preferito utilizzarla durante l'inverno che non durante l'estate dico la verità l'avevo usata un paio d'anni fa era dimentica sta dimenticata dietro il mio ripieno delle creme e ho buttato via tanto qua quello che c'era qui perché insomma era troppo vecchio quando l'ho ripresa in mano quindi l'ho usata volentieri però è un bel po ormai che non la che ora utilizzo ho un'altra maschera per capelli è la resistance masque terapiste di kera stas questa è una maschera perfetta per chi ha i capelli davvero 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 distrutti dove per distrutti intendo secchi sfibrati con le doppie punte crespi che proprio scrocchiano perché mancano di idratazione di nutrimento capelli spenti capelli anche magari colorati che hanno veramente bisogno di essere rimessi in vita su di me fa molto bene il suo lavoro per carità ma trovo che non partendo da un capello disastrato non riesca a dare il meglio ecco l'ho vista utilizzare da persone che hanno i capelli crespi non dico capelli afro ma capelli comunque molto grossi che hanno problemi di evidenti per quanto riguarda appunto il corpo dei capelli e la capacità di disciplinare i capelli e ho visto risultati incredibili quindi provate la se avete questo tipo di di capello per me una maschera iper mega super nutriente che ho sempre preferito usare prima dello shampoo piuttosto che dopo appunto perché era un po corposetta per me ho due creme solari di corf sun secret air la 30 e la 50 leggeri sottili sono un po bianche quando le applicate però sono veramente sottilissime quindi una volta massaggiate scompaiono sulla superficie della pelle mi sono piaciute veramente un sacco le ho finite in primavera ma le avevo aperte l'estate scorsa ho un altro prodotto di shampoo ora mi ero dimenticata questa è la prime mask ed è una maschera sempre realizzata sulle mie esigenze pensata per essere utilizzata come impacco pre shampoo ok io ho utilizzato tutta questa maschera tutta quanta però vi assicuro che per la mia esperienza ovviamente non ha fatto niente c'è proprio il nulla cosmico il nulla cosmico quando applico una maschera prima dello shampoo dopo faccio lo shampoo sento che i miei capelli hanno avuto insomma hanno hanno avuto uno step in più però con questa 0 0 0 di 0 quindi non la consiglio anche se di nuovo si parla di un prodotto realizzato per le mie esigenze sinergie naturali essential skin care routine essential lift serum siero viso anti age acido ialluronico vitamina c e essential lift cream crema viso anti age ialluronico vitamina c buoni tutti e due questo è un siero che in realtà un po come se fosse una crema leggera più che un siero perché appunto è un po più spesso dei classici sieri e questa appunto la crema idratante mi sono trovata bene con entrambi li ho usati quest'inverno finché ero sotto idrochinone quindi la mia pelle aveva bisogno di idratazione semplice senza troppi fronzoli aveva bisogno di ialluronico insomma di prodotti che idratassero e mi sono trovata molto molto bene con tutti i prodotti della linea anche con il siero con il siero viso occhi che ho menzionato nel mio precedente video dei prodotti terminati fito 7 crema giorno per capelli idrata lascia i capelli belli lisci morbidi non unge assolutamente minimamente e per me è un prodotto ma steve lo uso da anni scrub labbra labbra cadabra di lash l'abrasivo al bubblegum sono scrub base di zucchero per le labbra se volete comprare un prodotto di questo tipo io mi sono trovata bene profumo di bubblegum a parte che non è proprio il mio però sappiate che utilizzando insomma lo zucchero che avete a casa e un una puntina di balsamo labbra potete ottenere lo stesso identico risultato è solo una questione di praticità 6 bit top coat è l'unico top coat che uso sulle mie unghie fa un effetto vetro lucidissimo pazzesco vi assicuro che sembra semi permanente non gel perché a me l'effetto del gel non piace troppo spesso però da un effetto incredibile sigilla lo smalto e in combinata con gli smalti essi mi dura una settimana inalterato senza problemi poi ho qui un kit di diego della palma biancante per le macchie era composto da questa crema che è una crema con protezione solare 20 e queste ampolline ce n'erano altri blister ma le ho buttate da utili di vitamina c da utilizzare una volta al giorno allora anche qua per le macchie non ha fatto niente nel mio caso perché io al melasma ragazzi cioè non si smuove neanche con veramente con le minacce a mano armata quindi per me non ha fatto molto mi ha dato ha reso il viso sicuramente più luminoso che però le macchie no quelle sono rimaste la crema da giorno illuminante spiaf 20 che ce ne facciamo di una spiaf 20 si soffriamo di macchie non sono rimasta colpita un altro body wash fornillo fresh cotton liquid mask night swimming in the glittering orchid water of positano ecco che stanno che va di modo positano che sono tutti là questo è un bagno schiuma di and other stories non so se fosse una limited edition ok comunque è un profumo fresco di cotone un po dolcino buono buono non l'ho usato io l'ho usato marco perché io non non potevo usare bagnoschiumi diversi dei miei quindi l'ho usato lui non posso dirvi com'è il prodotto però il profumo è buono in passato ho usato altri detergenti di and other stories e a livello di formula mi sono sempre trovata molto bene a un po di a un'altra guarda brio geo don despair repair deep conditioning mask quante maschere per capelli vi sto mostrando questa è una maschera per capelli che non contenendo siliconi o cose del genere che vanno quindi a sigillare la superficie del capello è una maschera che io ho preferito sempre usare prima dello shampoo perché sfruttavo la situazione idratante più che l'azione sigillante all'inizio non mi è piaciuta perché all'inizio la usavo dopo lo shampoo come una maschera diciamo tradizionale una maschera siliconica e quindi pretendevo lo stesso e lei non me lo dava quindi ho iniziato a utilizzarla prima ha cominciato ad apprezzarla un buon prodotto buono il profumo non ha niente di che devo dire la verità però mi sono trovata tutto sommato bene appunto come impacco pre shampoo via film si cambia fin trattamento molti riparatore per pelli di tra irritate rossite danneggiate la bla questo un prodotto che avevo preso in francia tempo fa un guentino una cremina per quando la pelle arrossato oppure appunto ha bisogno di essere riparata carino ma non l'ho trovato miracoloso protezione solare foto ultra 100 is din spot prevent protezione solare 50 più uv a uvb questa è una protezione solare specifica per chi soffre di macchie perché è una spia 50 sulla carta 100 di fatto solo che non si può pubblicizzare una spia 100 in europa meglio si consiglia di non farlo quindi in molti non lo fanno però di fatto questo è una spia 100 e niente mi è sempre piaciuto mi sono trovata bene ho notato l'anno scorso quando l'ho usato soprattutto che a livello di macchie effettivamente aiutava a tenere sotto controllo il melasma lui usciva lo stesso ovviamente perché non esiste protezione solare che possa bloccarlo il melasma è scatenato sia dei raggi uv ma anche dal calore quindi non ci potete fare molto però vi aiuta un pochettino a tenere sotto controllo la situazione spray odacite pure elements rose neroli hydro vitalizing treatment mist una mista idratante per il viso carina senza infami senza lode mi sono trovata bene il profumo di rosa e neroli non è proprio il mio preferito perché mi sa un po da camera ardente però mi sono trovata bene quando poi ho scoperto il prezzo inizialmente non l'avevo realizzato ho pensato subito ma anche no ce ne sono 50.000 con un rapporto qualità prezzo migliore mi sembra proprio fuori di testa così mi sembra fuori di testa anche no vabbè fuori di testa no però non mi è piaciuto questo prodotto di la prairie line interception power duo praticamente questo è un prodotto doppio non so se vedete ma ci sono due serbatoi questo qui rappresenta rappresenta la crema giorno e questa la crema notte in base a quale bottone attivate sopra vedete che il pump a due forellini erogate uno l'altra allora questo prodotto penso che costi 200 euro se non addirittura un po di più io non non ho niente da dire di questo prodotto di positivo la crema giorno grassa unta bianca non idratava ma era tutta proprio unta piccicosa no la crema notte anche c'era anche lei bella pesante ricca un po fastidiosetta al mattino dopo la pelle non era più idratata morbida del solito e in più mi bruciavano da morire entrambe se andavano vicino agli occhi mi bruciavano da morire cosa che non mi capita mai 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 quindi per me questo è un prodotto boccetissimo ho un detergente di pixi questo è hydrating milky cleanser cocco e probiotici no non mi è piaciuto non mi è piaciuto perché dovrebbe essere un prodotto idratante ma in realtà mi dava la sensazione proprio di lasciare la pelle che tirava non mi sono trovata per niente bene poi qui o il luna sleeping night oil di sunday riley l'olio nutriente a base di retinolo buon prodotto l'ho usato spesso anche in passato veramente un buon prodotto è un modo anche secondo me per incorporare il retinolo in routine senza che questo retinolo sia particolarmente aggressivo particolarmente intenso perché appunto combinando la formula in olio che restituisce nutrimento si evita l'effetto pelle secca del del retinolo che normalmente il retinolo da non ha una percentuale altissima quindi non vi da controindicazioni come rossori irritazioni ok ok l'unica cosa è che ha un profumo erboso molto forte ma non è erboso tipo spa erboso tipo fienile e in più è molto molto ricco molto ricco corposo e un ticciarello quindi un po sulla superficie della pelle tutta la notte può dar fastidio un ticciarello è anche l'olio struccante di codalio qui una mini size non sono una fan degli oli struccanti in generale quindi non ce l'ho con lui però anche qua un prodotto molto ricco molto corposo e grasso che poi si fa fatica a risciacquare e non trovo che abbia particolari capacità di rimuovere il make up vorrei riprovarlo meglio con calma perché con la travel size non si può mai sapere però non mi ha fatto impazzire ho due prodotti altri due prodotti di pixi rose ceramide cream e rose flash balm sono due prodotti nutrienti idratanti di pixi della linea la rosa che salina ragazzi buzza troppo di rosa per i miei gusti ma sono io che non amo la rosa quindi non non è colpa del prodotto questo è proprio un balsamo denso grassetto e nonostante possa essere usato come maschera come moisturizer e come primer secondo me non è niente di che cioè non fa non fanno nessuno dei tre lavori in modo particolarmente degno di nota rose ceramide cream invece è una crema base di ceramidi quindi va a ripristinare la barriera cutanea quando è un po alterata è una bella crema idratante non non è troppo grassa però idrata molto bene e niente carino però ripeto mi fa troppo di rosa che mi ha fatto un po fatica a finirla poi ho il prodotto uno dei prodotti più inutili della storia assieme alla maschera di shampoo ora di prima che è lo scrub balm riparatore labbra contorno labbra di coli star come vedete l'ho usato molto poco perché dovrebbe essere un uno scrub per le labbra ma a malapena contiene due tre particelle esfolianti qui e lì quindi no ho avuto lì per cent'anni ora me ne sbarazzo questa crema occhi sapete il mio amore per la per il siero advance night repair di estee loader che per me è un capolavoro dell'industria cosmetica la crema occhi advance night repair che si chiama advance night repair ai semplicemente questo è un deluxe sample ma ce l'ho avuto in passato anche in full size è favolosa è come se fosse un balsamo fondente levica la superficie della pelle idrata rende più elastica rende lo sguardo riposato sensorialmente è una bomba e per me è pazzesca veramente pazzesca qui abbiamo due prodotti che condividono sia l'obiettivo che il packaging abbiamo pixi overnight glow serum e di ordinary e c'è il 30 per cento più 10 2 per cento peeling solution il famosissimo peeling rosso di di ordinari allora pixi il prodotto di pixi è un prodotto che contiene aloe condivide con l'aloe la formula perché è molto gelatinoso è proprio come se fosse un gel di aloe se appoggiate la goccia qui muovete la mano fa tipo tutto blu 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 è un prodotto esfoliante che mi è piaciuto molto l'ho applicate alla sera e il mattino dopo lascia la pelle sentite che proprio la pelle è sfogliata e bella liscia morbida l'unica cosa è che è un po stichi stichi proprio come l'aloe quindi lascia quella sensazione un po di appiccicosino che non mi ha fatto impazzire però il prodotto è molto buono e in più svolge una bella sensazione esfoliante ma non è aggressivo di ordinary peeling solution vi prego faccio lo stesso appello che avevo fatto in passato se siete giovani e siete entrate nel tunnel di di ordinary perché uno dei pochi brand che potete permettervi per i costi ridotti per il fatto che sui social se ne parla tanto se siete alle prime armi con l'esfoliazione chimica non avete mai provato niente se rimanete incantate da quei quattro ciarlatani che fanno i tic tocco i video su youtube facendovi vedere oddio guardate che figo il peeling rosso sembra sangue è bello per fare una funce al fist non per fare paura i vostri amici non comprate questo prodotto non compratelo non perché non funziona ma perché funziona troppo bene è pericoloso 30 per cento di alfa idrossi acidi 2 per cento di beti idrossi acidi è un peeling potente non è un esfoliante chimico è proprio un peeling è un prodotto forte è un prodotto aggressivo funziona funziona bene è l'unico prodotto di di ordine che io abbia mai provato che mi piace davvero ma non compratelo a cuor leggero solo perché costa 8 euro e 90 vi prego fatemi un favore è un prodotto strong usatelo con le dovute credo cautele mi raccomando olio rose hip bio regenerate oil di pai questo è l'olio arancione il colore è un olio alla rose hip cos'è è la rosa damascena no 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 qual è quella rosa come che si chiama il fiore in italiano non mi ricordo comunque un olio per il viso senza infame senza lode clinique moisture surge ai 96 ore hydro filler concentrate quindi questo è un prodotto per il contorno occhi idratante dall effetto filler il filler lo facciamo dal medico estetico perché questo non fa proprio niente però però per idratare la zona del contorno occhi renderla fresca elastica soprattutto in estate soprattutto se non avete bisogno di grande idratazione non avete grandi segni del tempo da trattare questo è un ottimo prodotto come il fil ovviamente però è un ottimo prodotto due prodotti per le labbra kissy me softly di madame miranda un balsamo labbra bello ricco colpo corposo che mi è piaciuto molto lemonade scrub a balm di lano lips questo è come non so dove è finito quello di lash che dovete applicare vi cascano i granulini e tutto quanto ma è un prodotto che potete usare anche fuori casa perché lo applicate come un balsamo labbra fregate le labbra tra di loro qualche qualche secondo qualche minuto e i microscopici granelli di questo siano di zucchero sapete come zucchero si sciolgono sulle labbra scompaiono e rilascia la patina idratante quindi funziona da scrub e anche da lip balm molto molto poi ho vita cocco coconut oil nella versione travel questo è un prodotto che io ho usato tantissimo in passato ho parlato molto dell'olio di cocco lo usavo sempre sui capelli poi ad un certo punto mi sono rotta non l'ho più usato mi era rimasta questa travessize che ho usato di recente e quando l'ho usata ho detto ma sì dai la faccio fuori tutta perché non ce n'era poi dentro chissà quanto ho bisogno di un effetto idratante intenso e l'ho applicato ovviamente prima dello shampoo ho fatto proprio una maschera dalle radici alle punte e mi sono ricordato perché ho smesso di usare l'olio di cocco perché anche se vi sembra di averlo risciacquato tutto perché comunque un olio leggero non è come l'olio d'argan l'olio di mandorle che sono belli densi corposi anche se vi sembra di averlo sciacquato tutto poi il momento in cui asciugati i capelli difonati i capelli vi rendete conto che avete i capelli unti sapete quando sembra che i capelli non si asciughino in realtà poi vi rendete conto con orrore che è unto dell'olio che avete applicato prima e quindi dovete rilavarveli perché altrimenti così non si può uscire di casa ecco mi è successo quello quindi olio di cocco va benissimo per i capelli ma io non lo uso più maschera dico da lì mask instant detox maschera purificante a base di argilla una delle poche maschere purificanti a base di argilla che mi piacciono perché fa bene il suo lavoro ma non secca la pelle non la rende spenta o accartocciata come una prugna e non lascia la sensazione di pelle che tira favoloso anche lo yellow b5 serum di la roche poset siero a base di acido ialuronico un po più corposo e denso di un po più io qua in veneto direi slim e guso che è un po più tipo lo slime scivolosino di un classico siero a base di acido ialuronico però mi è piaciuto molto mi sono trovata molto bene è fortemente profumato però vi avviso perché so che non a tutti piace questa cosa di solito la roche poset non ha prodotti così profumati ma questo lo è molto clinique pep start eye cream questa crema non fa fa pochissimo se non dare un po di idratazione alla zona dei contornocchi quindi va bene se avete 15 anni non se ne avete 33 come me non so contare madara ss ai riva il hydro cream and mask un'altra crema occhi che può essere usata anche come maschera si è messa in dosi più generose e tenute in posa mi è piaciuta veramente tantissimo veramente un sacco da un bel effetto idratazione contorno occhi delicata e non è eccessivamente grassa quindi si può usare anche di giorno mi è piaciuta moltissimo poi la cremina per le imperfezioni la roche poset e fa clara a i tanto amo le fa clara 2 quanto non mi è piaciuta le fa clara a i perché questa è una cremina che va messa proprio sul brufolo per farlo sfiammare far andar via prima ma secondo me non fa niente almeno su di me non fa niente 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 quindi non la consiglio poi ho un prodotto di l'oreal per le ciglia clinica liproven lash serum un siero con il pennellino da applicare lungo l'attaccatura delle ciglia un siero rinforzante per le ciglia my bed perché non sono stata comprata questo prodotto l'ho usato poche volte non ho avuto nessun problema in fase di utilizzo ma non l'ho usato con costanza mi è caduto dietro il cassetto e quindi non l'ho più utilizzato e ora lo devo buttare perché anche se sapete io non azzardo sempre utilizzare i prodotti anche dopo la scadenza ma mai qualcosa che va applicato così vicino ai lotti quindi mi tocca buttarlo video che non avete idea poi abbiamo il balsamo labbra hawaiian tropic lip balm spf 30 balsamo solare di hawaiian tropic per le labbra mi piace tantissimo lo uso da secoli mi trovo molto bene profumo tropicale idrata protegge ottimo l'irac sanissimo trattamento protettore occhi questo è un matitone come vedete non l'ho terminato è un matitone color carne di protezione solare da usare attorno agli occhi lo butto perché ce l'ho aperto da troppo e i prodotti per la protezione solare meglio sempre cestinarli quando sono aperti da troppo tempo lo sapete ma comunque non mi fa gran che impazzire perché all'inizio quando l'ho aperto mi piaceva ma dopo pochissimo veramente dopo forse un mese è diventato un po farino setto secco se vi abbronzate tende a sbiancare la zona del contorno occhi va un po nelle rughette quindi nonostante io sia sempre alla ricerca di un prodotto per la protezione solare del contorno occhi non siano facili da trovare questo lo boccio perché mi sono trovata bene alla lunga claren gel boost super lift rimodella e titan quindi tende la pelle questo dovrebbe essere un gel che vi fa per le tette che dà un effetto lifting e che rende la pelle più tonica e più e più tesa sicuramente l'unica cosa che alza e tende le tette come vi dico sempre sono 10.000 euro un chirurgo plastico e due settimane di ferie quindi queste robe qua per favore non le compriamo io l'ho ricevuto a un travel che avevo trovato in qualche gift set di claren non ci spendiamo soldi ho un bel po di maschere in tessuto vado via veloce allora questo kit di la neige tutto un sheet mask è un kit che avevo comprato all'estero non mi ricordo prezzo in bat quindi l'avevo preso in thailandia e carine però qui da noi in europa non si trovano quindi non mi soffermo maschere di origins flower fusion o questa il gesso mino che solo questa ciò carina carina non puzza di gesso mino per mio sommo piacere ha fatto bene il suo lavoro queste invece sono ancora chiuse ma le butto sono le dottor giard plus chicken eye lift e love line lift questa è una maschera questa è la forma della maschera ok va applicata qui sulla zona del contorno occhi e delle guance questa invece è applicata qui sulla zona delle righe del delle linee del sorriso e smile line e esiste questa qui che è la terza terzo modello earth zone quindi la zona del cuore diciamo del contorno del viso vedete va applicata in questo modo appesa le orecchie e lungo l'ovale del viso allora io avevo comprato un kit che conteneva tutte queste maschere c'erano tre per tipo quindi totale erano 9 io ho dato diverse chance queste maschere tanta che di queste ne ho utilizzate due quindi queste sono la terza di ciascuna e di questa ne utilizzate tre addirittura quindi tutte e tre queste maschere non so che cosa abbiano ma ogni volta ogni volta che io le utilizzo mi fanno uscire 1 2 imperfezioni nella zona in cui ho applicato la maschera è una cosa veramente cioè è proprio matematico cioè non è statistica matematica è una certezza quindi ci ho provato ne ho utilizzate appunto 7 su 9 però le butto e lo sapete che odio buttare le cose però non voglio fare un dispetto a nessuno se succede a me a questa cosa che le imperfezioni non mi escono mai non vorrei che capitasse uno sfogo più più consistente a chi magari soffre già di questo problema di suo quindi le butto e basta mi dispiace ma non ve le consiglio perché a me hanno dato proprio questo problema qua hollywood reinvented ut secret sheet mask belle idratanti belle fresche leggere imbevute di prodotto mi piacciono tantissimo così come mi piace da matti la minerall 89 maschera fortificante riparatrice stupenda acido ialuronico booster di idratazione pazzesca honey butter di papare saip questo brand non si trova più facilmente ma questa comunque era una maschera che a me piaceva tantissimo per l'idratazione quindi da usare quando faceva freddo miss de gaspé defy and ranch anti aging hydrating dry mask questa la vendevano una volta da sephora un brand che non si trova più maschera secca asciutta da applicare sul viso nonostante sia asciutta rilascia principi attivi idratanti carina mi sono trovata bene ho dei cerottini per i punti neri del naso hollywood star rescue por strips carini fanno il suo lavoro io ho pochi punti neri sul naso quindi non mi tolgono molto però qualcuno ne viene via e mi fanno insomma mi fa sempre piacere sbarazzarmene de oso face energy shot mask premium black molto carina anche questa anche se forse un po over price per essere una maschera in tessuto che si usa una sola volta e le plantific natural superfood food peel mask sono le maschere esfolianti per i piedi che mi fanno fare la muta perdete la pelle a pezzi non fatelo adesso ma fatelo fine settembre pazzesche migliori nel mondo rapporto qualità prezzo impeccabile si trovano su amazon una bomba veramente una bomba abbiamo poi alcuni prodotti di make up quindi è rimasto solo il make up non c'è tanta roba e la maggior parte dei prodotti sono prodotti che butto perché sono vecchi più che butto perché sono finiti un anno che mi trucco veramente pochissimo quindi non non ho terminato grandi prodotti devo dire la verità però vi mostro un po che cosa abbiamo fixi large lash mascara carino scovolino bello cicciotto bello volumizzante fa bene il suo lavoro un bel mascara con un effetto volumizzante che definirei da 7 mi è piaciuto la stopia bear minerals mega volume mineral base mascara idem con patate forse un pochettino meno volumizzante però anche lui fa bene il suo lavoro sempre 7 black bubble strawberry volum mascara di neve cosmetics questo è un mascara che vi ho consigliato tantissimo le prime due settimane i primi due mesi di apertura mi è piaciuto molto bell'effetto volume bello nero durava bene poi improvvisamente la formula si è seccata tantissimo e nonostante riuscissi tranquillamente applicarlo non era secca la formula di per sé però una volta applicate sulle ciglia si seccava sulle ciglia quindi mi cadevano i pezzettini neri qua tantissimi quindi l'ho promosso i primi due mesi ma poi mi sono vista costretta a bocciarlo mettiamola così e non è carino da parte mia l'orologio che ti devo dire scusami giudicona è il volume mega mascara di l'oreal no non mi è piaciuto perché altro che mega volume è molto bagnato impacca molto le ciglia si tatuano e sbava che è un piacere perché è proprio molto cremosa la formula e non mi è piaciuto per niente ho terminato un eyeliner di kiko precision eyeliner un eyeliner liquido di quelli con la punta in feltro carino mi sono trovata bene preferisco il maybelline matt però non mi sono trovata male mentre non mi è piaciuto per niente l'anastasia beverly eyeliner liquid questo qui viola dovrebbe essere waterproof a lunga tenuta ragazzi se fate una striscia qui nera sul dorso della mano mi leccate il dito e fate così via via tutto c'è proprio c'è l'eyeliner meno resistente sulla faccia della terra veramente un cioè impossibile è una cosa scandalosa secondo me quindi zero defy line flick di charlotte tilbury questo è un eyeliner in pennarello mi è piaciuto da matti quando l'ho acquistato l'ho utilizzato per un mesetto mi sono trovata molto molto bene però poi si è seccato cioè si è seccato proprio velocementissimo e quindi lo boccio perché è stato uno spreco praticamente ce l'ho utilizzato poco e poi si è asciugato poi prodotti che butto invece perché vecchi bar rovinati sono questi qua allora per iconi di no makeup blush questo è un prodotto che ho usato pochissime volte sono andata a chiudere la confezione una volta che l'ho utilizzato non ho la forza di maciste però ho spaccato il tappo cioè praticamente si è rotto vedete si è rotto il tappo e quindi il prodotto adesso così non si può chiudere e quindi mi tocca buttarlo poi o devo buttare il jelly beam highlighter nella tonalità glazed di farsali perché si è è una gelatina si è completamente rappreso ce l'ho aperto da un po e devo dire quindi non mi stupisce la cosa però si è rovinato e poi invece mi stupisce devo buttare il maybe in face studio chrome jelly highlighter quindi praticamente la versione low cost di questo che avevo comprato di recente quest'inverno menzionandolo su un video dei preferiti cioè dei prodotti low cost non dei preferiti scusate era pieno il barattolino era pieno praticamente si è tutto seccato e concentrato in questo sputino qui lo vedete lo vedete c'è manco utilizzarlo notte giorno l'avrei finito così tanto e non lo tocco perché altrimenti mi sporco tutta però vedete che è completamente rappreso quindi anche se costa poco non lo consiglio più peccato perché mi era piaciuto molto una volta aperto poi a dei rossetti liquidi che diciamo mando al creatore perché sono vecchi e si vede proprio che la formula si è alterata e sono le seppora cream lip stain che adoro come formula però appunto son vecchi tonalità 24 bellissima 16 ciclamino 10 arancione l'arancione orrendo perché gli arancioni sulle labbra sono difficilissimi e questo è uno di quelli che segna tutto e 26 marrone cioccolato voglio questo rossetto di anastasia beverly che si chiama kathleen colore pazzesco però è vecchiotto si è seccato il brow gel in eboni di anastasia beverly che non mi ha fatto granché impazzire perché è un gel fissante però molto denso è un metà da una pomade è un gel fissante e se lo usate solo come già il tipo me toccate per sbaglio la pelle vi sporcate proprio fate un po da un potaccio e è impossibile da togliere perché è pastoso waterproof quindi non mi è piaciuto e da ultimo o il tartare in forest of the sea water foundation nella tonalità medium tan golden uno di cui fondotinta in siero avete presente con il contagocce l'ho adorato tanto in passato un fondotinta che mi è sempre piaciuto ma lo butto perché ho notato un cambiamento nell'odore e quindi lo considero terminato anche se non lo è perché ha finito la sua vita utile ragazzi vi ho mostrato tutto mi sembra impossibile sono alla fine del cesto ho un mal di gola perché da quanta che parlo un'ora e mezza penso non lo so spero che non vi siete addormentati che siete ancora qui con me se siete arrivati alla fine del video vi do una stellina dorata che vi appiccico qui sul petto fatemi sapere se vi piacciono i video dedicati agli empties che so che sono sempre molto densi di prodotti e lunghi però secondo me sono utili per avere dei feedback su su varie tipologie insomma di di prodotti e nulla iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto cliccando su questo bottone con la mia faccia io vi mando un bacione grande noi ci vediamo presto per un nuovo video ciao